E saluto ragazzi benvenuti in questo nuovo video, questo è un video super al volo per portarvi la notizia all'ultimo minuto infatti credo lo farò uscire addirittura prima delle 11.30 perché Apple ha ufficializzato un minuto fa la lettera di diffida ad un leaker cinese e con questa lettera decide, denuncia tutti questi leaker e dice che inizierà una vera e propria guerra contro questi leaker cinese vi spiegherò meglio la situazione ma prima sigla Beh ragazzi in poche parole è questo leaker aveva condiviso delle foto dei prototipi Apple che erano trafugate dai produttori cinesi, cioè dai produttori delle fabbriche di iPhone in Cina e quindi il cittadino cinese ha ricevuto una lettera di denuncia di diffida direttamente da Apple dal suo studio legale e dice ha divulgato senza autorizzazione una grande quantità di informazioni relative a prototipi e prodotti Apple inediti che hanno costituito una deliberata violazione dei segreti commerciali di Apple dopo una curata immagine Apple ha ottenuto prove rilevanti sulla tua divulgazione non autorizzata di prodotti Apple la tua violazione intenzionale si manifesta in modo specifico come condivisione di informazioni non pubblicate su nuovi prodotti Apple attraverso piattaforme di social media inclusi ma non limitati al design e alle prestazioni di questi nuovi prodotti in poche parole ha diffuso i minimi dettagli quel che poi io e tutti gli youtuber prendevamo da questi leaker questo qui non lo conosco neanche, non sappiamo neanche chi sia in poche parole noi diffondevamo, spiegavamo bene le notizie che questo portava ovviamente noi facevamo una cosa legale, noi raccontavamo ciò che c'era in giro ma questo leaker diciamo che a Apple non è nata molta genio ovviamente questa cosa è una cosa già successa perché hanno già denunciato un po' di mesi fa un anno fa mi sembra a leaker è stato richiesto di firmare un documento in cui accetta di ottemperare le richieste entro 14 giorni dal ricevimento della lettera quindi interrompere la condivisione alla vendita di queste informazioni perché molto spesso questo leaker dal quale non si so neanche il nome potrebbe vendere vere e proprie informazioni cioè lui non le mette sui social ma paga che ne so un giornale ad esempio che ne so HDblog un blog, un blog a caso HDblog non fa queste cose perché sono abbastanza illegali paga un blog cioè viene pagato dal blog il quale paga questo leaker per mettere delle informazioni su dei prodotti che nessun altro ha al momento non si sa chi sia questo leaker ma l'account twitter è Mr. White ed è stato cancellato lo scorso 11 giugno molto probabilmente sarà questo Mr. White l'intestatario del leaker quindi questo video non vuole diventare lunghissimo vi voglio solo spiegare una cosa vedete che molto spesso questi leaker vengono denunciati ed è per questo che io vi dico che i leak sono molto 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 simili perché se Apple arriva a denunciare un leaker non perché gli mette su una cosa come quando era successo dell'iPhone 8 come tipo queste immagini ma perché questo leaker è arrivato talmente nei minimi particolari talmente come il mio capo talmente all'interno della fabbrica del loro sistema in cui progettano i nuovi iPhone che dicono Capri non puoi diffondere queste informazioni perché sono per noi dei segreti quindi vuol dire che questi leak erano davvero davvero fondati e reali infatti il titolo di questa lettera è guerra contro i leaker cinesi queste sono le notizie riportate dai grandi big, dai grandi blog infatti Apple dichiara poi nella seconda parte della lettera non tradotta in italiano che io ora non vi starò qui a tradurre che inizierà una vera e propria guerra contro leaker cinesi e se io cerco Apple guerra leaker guardate qui eh mi escono un sacco di notizie perché infatti esce che anche Samsung e Xiaomi stanno iniziando a fare una vera e propria guerra contro i leaker quindi le grandi multinazionali stanno vedendo che ci sono sempre più infiltrate all'interno delle proprie fabbriche quindi è iniziata la vera e propria guerra contro il leaker ci sono un sacco di persone che lavorando magari all'interno diciamo di Apple riescono ad avere molte più informazioni di noi comuni mortali le diffondono nei grandi social media vengono affermate perché vengono capite come una cosa in stile Apple nella loro filosofia bene Apple li denuncia e quando Apple denuncia questi leaker bisogna andare a rivedere tutto ciò che hanno fatto per noi comuni mortali e capire che se Apple è arrivata a denunciare questi leaker vuol dire che queste cose le hanno molto molto veritiere quindi niente dai ragazzi per questo video iper iper al volo che non so quanto sarà durato ma io lo devono montare nel minimo tempo possibile è tutto qui noi ci vediamo speriamo domani con un prossimo video niente dai ciao e alla prossima